Ciao. Vi porto in anteprima. Una puntata turca, che sono sicuro, vi lascerà senza parole. Mujeygan fallisce nel suo tentativo di uccidere Zuleyya. Tuttavia, dopo essersi risvegliata, Zuleyya è determinata a vendicarsi e promette di rovinare la vita di Mujeygan. Nella villa, tutti sono felici per il risveglio di Zuleyya ma Mujeygan confida le minacce ricevute a sua zia. Nonostante i tentativi di rassicurazione, Mujeygan teme che Zuleyya abbia un piano in mente. Nel frattempo, Ankar porta i bambini in ospedale per farli incontrare con la madre. Ankar crede che Zuleyya abbia tentato il suicidio e le chiede di non farlo mai più. Il ricongiungimento tra Zuleyya e i suoi figli è toccante, mentre Ankar guarda Demir in modo interrogativo. Nel frattempo, nella villa, c'è un susseguirsi di eventi intensi. Naciai scopre che Atip intende chiedere il divorzio e, infuriata, decide di citarlo in tribunale, accusandolo dell'omicidio di Gengavie. La notizia si diffonde rapidamente e un mandato di cattura viene emesso contro Atip. Nel frattempo, Atip viene sorpreso da Gaffur mentre apre la borsa contenente i soldi concordati nel loro losco affare. La situazione degenera in uno scontro feroce, con Atip puntando la pistola contro Gaffur nel tentativo di ucciderlo. Tuttavia, Gaffur non si fa intimidire e si ribella, scontrandosi violentemente con Atip. Alla fine, Gaffur strappa la pistola dalle mani di Atip e lo colpisce al petto, uccidendolo sul colpo. Preso dal panico, Gaffur si libera del corpo di Atip e della pistola, cercando di coprire le proprie tracce. Il giorno seguente, Gaffur è tormentato dai rimorsi per quanto accaduto, afflitto dal peso di un segreto insostenibile. Poco dopo, Chetim fa il suo ingresso nella villa e ascolta le conversazioni riguardanti l'uccisione di Gengavie, credendo erroneamente che Atip sia il responsabile. Di fronte alla notizia, Gaffur sbianca e improvvisamente sviene, travolto dalla tensione emotiva. Nel frattempo, Gulten e Chetim si recano in ospedale per visitare Zuleyha, che sta ricevendo le migliori cure sia dalla villa che da Demir, che non si separa mai da lei. In un momento di intimità nella stanza, Demir e Chetim si allontanano per discutere della grave accusa di omicidio rivolta a Atip per la morte di Gengavie. Nel frattempo, nella villa, Fekeli sente l'urgenza di parlare con Ilmaz. Considerandolo come un figlio, desidera formalizzare legalmente il loro rapporto. Fekeli fa quindi una richiesta importante a Ilmaz, sperando che accetti di diventare suo figlio. Cosa ne pensi di tutto questo? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. A presto!